Mohamed con questo username si collegava nelle chat chiuse dei social, anche quelle in lingua araba. Da Telegram la piattaforma Rocket Chat aveva tutte le credenziali di accesso. La polizia lo ha arrestato nella sua casa di Luzzi, nel Cosentino. Domenico Giorno, 42 anni, è accusato di essere un simpatizzante del califato. Per i guerriglieri giadisti faceva promozione in rete e soprattutto studiava da terrorista. La polizia postale lo teneva d'occhio da tempo. L'uomo trascorreva ore in rete, aveva scaricato un tutorial per imparare a costruire bombe e maneggiare armi e un corso per l'organizzazione di attentati. La polizia ha fatto irruzione nella sua casa l'ordinanza di arresto emessa dalla GIP di Catanzaro su richiesta della DDA. In casa gli hanno trovato di tutto materiale che l'uomo consultava per formarsi da autodidatta come guerriero della GIAB. Un'avventura interrotta con l'arresto.